Settimo giorno del festival, gli studi di Pardolaio, di nuovo col direttore artistico Olivier Per. Allora, stasera in piazza un film tedesco, Firtage in Mai, un film importante, i bambini nel periodo di guerra, ma prima, anche qui, una premiazione molto importante, il premio Raimondo Razzonico. Sì, direi che è un premio Raimondo Razzonico diverso degli altri, perché si tratta di un produttore hollywoodiano, però un nome molto importante del cinema americano si chiama Mike Medavoy, non è molto conosciuto del grande pubblico, però se citiamo tutti i film che ha prodotto, come produttore o come direttore di studio, abbiamo titoli come Rocky, Apocalypse Now, Platoon, Silence of the Lambs, Philadelphia, Terminator, Robocop, una lista incredibile di classici, di grandi successi del cinema americano. Ha avuto un percorso veramente ricco, ha cominciato come agente, come agente dei nuovi registi, star del nuovo Hollywood anni 70, dunque all'epoca i suoi clienti si chiamavano Francis Coppola, Terence Malick, Monty Hellman, una lista, Robert Aldrich, una lista incredibile di grandi registi, e dopo ha cominciato a lavorare alla United Artists, che all'epoca era il grande studio degli autori, un studio che faceva grandi film, però sempre con un'importanza molto forte degli artisti e degli autori. Dunque con la United Artists lui ha prodotto i primi film americani di Milos Forman, ha prodotto Rocky, ha prodotto i film di Woody Allen, come Annie Hall, e Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, Palmaduro Hakan. Dopo lui è partito di United Artists, che dopo la sua partenza è accaduto, ha fallito e ha avuto un fiasco con il film di Cimino Evansgate, e Mike Medavoy con i suoi complici, con i suoi amici produttori, ha creato Orion Pictures degli anni 80, e questo studio, un studio piccolo, però anche lui molto legato alla nozione di autore, alla nozione di regia, hanno fatto film come Robocop, hanno continuato a lavorare con Woody Allen, e i film di grandi successi del cinema americano degli anni 80. Subito dopo ha lavorato per la TriStar di Colombia, dove ha prodotto film come Bugsy con Warren Beatty, o Hook di Steven Spielberg, e finalmente è diventato il suo proprio capo creando la sua società di produzione Phoenix Pictures. È vero che Mike Medavoy ha prodotto più di 150 film, e ha aspettato 2000 per avere il suo nome nei crediti di un film, un film di fantascienza con Arnold Schwarzenegger. e Mike Medavoy, direi che non è una forza del passato, non è un nome mitico, però, che appartiene alla storia del cinema, perché lui, molto attivo in questi momenti, negli anni 2000 ha prodotto grandi film americani come Zodiac di David Fincher, Shutter Island di Martin Scorsese, e finalmente Il Signo Nero, Black Swan di Darren Aronofsky, con Natalie Portman, vincitore ai premio Oscar. Dunque è veramente una leggenda vivante e anche un produttore che ha delle cose incredibili a raccontare sulla storia di Hollywood e sull'evoluzione del cinema americano negli ultimi 40 anni. Dunque è un grande onore di avere con noi un grande nome del cinema americano. Un grande nome del cinema americano, un gancio che solleva in un colpo solo 40 anni di storia del cinema, dalla nuova Olivia, come ha detto Olivia Per a Aronofsky, invece per continuare un discorso già iniziato lo scorso anno dei rapporti tra cinema e arte, l'anno scorso c'era Philippe Parrenot, quest'anno un altro personaggio, oggi al festival, Henri Sala. È vero che mi pare importante a Locarno di celebrare anche gli artisti, non che i registi non sono artisti, però è vero che in quest'epoca ci sono tanti artisti che diventano registi, come Parrenot l'anno scorso, e quest'anno è Henri Sala, che è un grande nome dell'arte contemporanea, che ha fatto tante mostre, è anche un regista molto importante, molto talentuoso, conosce molto bene il cinema e i suoi film non sono solo film di arte video, sono veramente film pensato, adattato al grande schermo. lui è di origine albanese e vive tra Londra, Parigi e Berlino e abbiamo grande onore di mostrare in prima internazionale il suo nuovo film che assomiglia più a un film di cinema che a un film d'arte perché c'è un'attrice, Marie Belverdou, bravissima e bellissima attrice spagnola che abbiamo visto nei film di Coppola, Tetro, che fa la protagonista, è un film inventato da Sarajevo, dunque che fa una, che paragona un concerto che paragona la musica classica e l'atmosfera di guerra, di violenza e di morte di Sarajevo durante l'assedio di Sarajevo, è un film che fa molto pensare al cinema di Godard che anche lui ha fatto film su Sarajevo e il film si chiama perché questo titolo è il numero di giorni dell'assedio di Sarajevo e durante questi giorni era vietato di portare costumi con colori violenti come il rosso, perché poteva essere una cibla più facile per i sniper. Dunque questa è la storia del film e siamo molto contenti di avere con noi Henry Sala, di aver Marie Belverdou e di organizzare un incontro con il pubblico il moderatore sarà Hans Ulrich Obrist che è il curatore della Serpentine Gallery a Londra lui è svizzero, però viva a Londra e lui è un grande specialista dell'arte grande specialista anche del cinema e sarà lui che parlerà con Henry Sala. Continuano quindi questi sguardi sul cinema contemporaneo, sui cinema contemporanei grazie a Olivier Per per queste introduzioni che ci hai fatto alla giornata e buona giornata anche a te. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.